Ci abbracciamo tutti Ragazzi, intanto grazie a tutti per aver partecipato, un applauso Però, però, le due che sono riuscite a toccare per prima la macchina Sono loro Ma chi ho il piacere di portare live di X Factor questa sera? Valentina e Elena, direttamente da Varese Che fate di bello a Varese? Lavoriamo entrambe, impiegate entrambe Però siete amiche oltre che... Sì, da sempre Amiche da sempre, siamo telepatiche, anzi, vero E allora, testiamo questa telepatia? Facciamo un gioco? C'è una scatola Ok, la vediamo Tra di voi Potete aprirla Ok Wow C'è un regalino Ci sono dei regali Anzi, dei regali Aspetta, tira fuori C'è un altro pacco Ah, attenzione, già qua Quello che vi voglio far capire io È che stiamo parlando di una canzone C'è il titolo di una canzone Eh, ce l'ho Già ce l'hai Lei è l'uomo gatto Vai, dicela Dentro una scatola No No C'è una coccarda Sì Quindi, che cos'è? Regalo Benissimo Dentro cosa c'è? Apri, vai Vai, vai Apro Non c'è niente Non c'è un altro pacco dentro? Sì Quindi sono due pacchi Sì Le dimensioni di questi pacchi Dentro ce n'è uno come? Più piccolo Ok, quindi rispetto a quello più piccolo Il regalo più grande Benziano Fede Molti cibi Vorrei donare il tuo sorriso alla luna Perché Finotte chi la guarda Possa pensare a te Regalo mio Più grande Ragazze, ci siamo quasi Siete pronte per i live? Sì Prontissime Siete pronte per i live? Siete pronte per Siete pronte per i live? Siete pronte per i live?